Benvenuti, benvenuti alla prima lezione gratuita di Adobe Premiere Pro. Sono Fabio Ambrosi, sono colui che se vorrete nelle prossime settimane vi accompagnerà alla scoperta di questo fantastico software per il montaggio video. Quello che voglio realizzare è un corso gratuito perché verrà pubblicato gratuitamente su YouTube. È un corso dedicato sia a chi non ha mai montato in vita propria e vuole imparare a montare un video e sia a chi è già un montatore professionista e magari vuole scoprire qualche trucchetto, qualche scorciatoia, qualche tecnica particolare da utilizzare nella propria vita lavorativa quotidiana. Il corso è molto 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 lungo perché partendo dalle basi di Premiere arriverà a trattare anche argomenti più avanzati come può essere la Color Correction per esempio verrà pubblicato settimanalmente, quindi a cadenza settimanale, sul mio canale YouTube e sul mio sito internet www.fabioambrosi.it Non è un eccesso di megalomania, è solo un modo per avere tutte le lezioni racchiuse in un unico luogo. Sul mio sito troverete una pagina dedicata appunto al corso gratuito di Premiere e in fondo alla presentazione del corso troverete l'elenco di tutte le lezioni. Cliccando su una singola lezione potrete vedere il video, diciamo, della lezione stessa e un piccolo articolo scritto, alla vecchia maniera, insomma, che illustra i contenuti della lezione stessa. Vi dicevo che il corso è molto lungo, se cliccate sulla pagina di presentazione del corso e date un po' uno sguardo veloce all'indice troverete veramente un elenco sterminato di lezioni. Non abbiate paura, piano piano arriveremo fino in fondo. Chi vorrà potrà fare domande commentando questo video, chi ne sa più di me o chi ha informazioni aggiuntive rispetto a quelle che fornisco o semplicemente chiunque vuole portare il proprio contributo può farlo commentando il video qui in basso. Io non sono un tuttologo di mestiere, faccio il montatore video, mi occupo di contenuti multimediali ormai da oltre dieci anni e voglio condividere quello che sto con voi, quindi registratevi subito al mio canale così che possiate sempre restare aggiornati sui nuovi tutorial che escono di settimana in settimana e se avrete piacere ci faremo compagnia insieme in questo lungo viaggio alla scoperta di Adobe Premiere. Iniziamo subito!